Psicanalisi e lockdown tra emergenze e disagio giovanile. Parte da qui il nuovo ciclo di scaffali, tre conferenze organizzate dalla Biblioteca Città di Arezzo, Assieme a Fondazione Guido di Arezzo e Feltrinelli Point. Il lockdown ha contribuito a far emergere alcune necessità particolarmente impellenti dal punto di vista di coloro che erano soggetti ad una cura in ambito psicoanalitico, soprattutto per quello che riguarda il mondo giovanile. Il primo appuntamento è in programma per il 6 maggio alle 17.30 alla Biblioteca Cittadina. Il tema sarà Psicanalisti in lockdown. Presenteremo il libro di Adelia Lucattini, un libro da lei curato, che tratta proprio a più mani il tema delle emergenze e del disagio giovanile, analizzato da un gruppo di psichiatri appartenenti a nazioni diverse in periodi differenti del lockdown, agli inizi più o meno a metà e poi alla fine del lockdown stesso. Quindi abbiamo riscontrato, diciamo così, un aumento drammatico del disagio delle persone. E del resto gli stessi psicoanalisti si sono trovati in una situazione completamente diversa, perché il setting analitico è cambiato profondamente. dalla tradizionale stanza studio dello psicoanalista improvvisamente si sono trovati online nelle stanze virtuali in cui si effettuava l'analisi stessa.